Mi ritengo una persona aperta al dialogo e al confronto, non so perché mi descrivono come una persona autoritaria. Antonio Ionnito e Pier Nicola Lovisi sono stati sempre lasciati liberi di svolgere il proprio incarico senza alcuna interferenza. Così il sindaco di Spani, Francesco Giudice, commenta la decisione dei due consiglieri di prendere le distanze dalla maggioranza. La loro assenza, aggiunge il primo cittadino, non peserà sulla vita amministrativa. Il resto del gruppo è compatto. Ieri abbiamo tenuto un incontro per analizzare quanto accaduto e stabilire chi dovrà entrare in giunta al posto di Antonio Ionnito. Un consigliere ha già dato la sua disponibilità. L'ex assessore Ionnito ha lasciato la delega allo sport, turismo e spettacolo mentre il consigliere Lovisi ha rimesso nelle mani del sindaco la delega alla trasparenza e affari istituzionali. I due dissidenti hanno già comunicato al primo cittadino la nascita del loro gruppo, si chiama Insieme per i Spani e sarà ufficializzato nella prossima seduta del consiglio comunale. Quanto accaduto nel palazzo municipale ha sorpreso la comunità ma non chi vive attivamente la politica locale. Pare infatti che da tempo non c'era più feeling tra giudice Ionnito e Lovisi e chissà se in questo particolare momento in cui i numeri sono importanti per continuare a governare non sboccerà una nuova amicizia politica tra il sindaco e l'ex primo cittadino Marilinda Martino oggi capo dell'opposizione. Per anni Franco Giudice ha governato al suo fianco come vice e assessore.